benvenuto ad un nuovo episodio dell'ariatto l'episodio 151 io sono michele una delle voci di questo progetto e del lato viola del pink e oggi sono qua per parlarvi della tokyo joshi pro wrestling era da un po effettivamente che non parlavamo di tokyo joshi ci avevamo concentrati su su altro soprattutto su stardo meno ultimamente parole hanno fatto un evento grosso questo questo weekend sabato hanno fatto summer sun princess che è comunque uno degli eventi più importanti all'interno del dell'anno della tokyo joshi quindi ben deciso di guardarlo parlare un po il nostro punto di vista su alcune situazioni su alcune cose che si sono create all'interno di questo show durato parecchio durato circa cinque ore potete trovarlo sul vostro universe dove trovate anche dvd anche la nova dove trovate anche le gambe che ha fatto un altro show domenica non l'ho ancora visto cerco di organizzarmi poi di partire di guardare anche quello per non rimanere troppo indietro e dove partiamo subito con il tuo momento perché appunto 285 ore c'è un po sono un po di me c'è un po di situazioni interessanti quindi cercheremo di andare un po nel dettaglio su alcune cose alcuni match ne parleremo meno giustamente perché noi possiamo stare via a parlare effettivamente di tutti i match nel dettaglio però cercheremo di darvi un po un'idea di tutto cercherò cercherò comunque partiamo subito suzume risuendo hanno battuto gioia nagano e moka mi amoto match buono come open era in stato carino fa ridere l'idea di risuendo che un paio di settimane fa ha fatto il match per number one contender per il titolo international e arriva il pay per view e la mettono nell'opena dove ci sta alla coppia con con susme è abbastanza rodata si conoscono abbastanza hanno già lavorato insieme diverse volte è un po magari sprecata susme nella parte bassa della card dove ci sta in questo caso bisognava dare qualcosa di un po concreto ad una gioia nagano che tornava dopo un po di tempo tornava facendo coppia con moka mio moto con cui avevano lavorato durante il torneo non ha vinto giustamente direi gioia nagano poi l'ho vista migliorata ha fatto qualche passo avanti è più a suo agio mette meno situazioni dove sembrano dei dei kata di arachianalzeri qualcosina messo anche in questo match ma un po meno rispetto al solito ho trovato un po meno presente all'interno delle dinamiche ma camia moto ma giustamente dopo tanto tempo in alta giuria in tag aveva fatto lavorare l'abbiamo c'è l'abbiamo salida per partner stagione rapporto a fare un po lei da la protagonista delle situazioni quindi ci sta che ma che una volta abbia fatto un passettino indietro comunque non era un match importante e non metto punto per far vedere al ritorno di una gioia nagano a far vedere se effettivamente è ancora un po capace per ancora orientarsi ha fatto un buon match tenete d'occhio a risuendo e su zoom perché secondo me potrebbe essere tra le papabili vincitrici del titolo di coppia che al momento è vacante ma che potrebbe potrebbe andare nelle loro mani potrebbe essere un'idea interessante perché comunque hai dato molto poco loro due anche se meritano qualcosina di più e sono super fan di su zoom e perché secondo me è un tipo di lottato che manca un po all'interno della tokyo joshi all'interno anche di altre realtà del panorama joshi e quindi ci sta che magari riescono a dare il titolo di coppia se l'avvicinata molto lei quando era in coppia con mirai poi mi aveva deciso di mollare la tokyo joshi e per bene abbiamo visto in stato una cosa tutto un per un altro percorso su zoom e è rimasto un po scottato da questa cosa ha fatto coppia con risuendo sta andando bene poi mi armi anche per un regno abbastanza corto non sarebbe male passiamo poi al match successivo successivo è un momento dove si fa vedere un po si fanno vedere un po di ucchi bisogna i mesi multipli servono anche a quello per i giustenti hanno un bel po di ragazze quelle della tokyo joshi che stanno allenando che stanno lavorando abbastanza bene in questo caso del mezzo è stato divertente carino appunto per dare spazio a quelle che sono un po più green e effettivamente ad averla meglio infatti è stato il team con quelle un po più pronte perché abbiamo shino sazuki che comunque anche grazie all'aiuto delle app girls cioè raccoo i cani noa e mio watanabe con cui fa ormai negli ultimi mesi anche la canzone iniziale dalla performance iniziale sta andando abbastanza bene sta facendo il suo sta migliorando su alcuni punti di vista e il fatto di aver comunque un background idol sa come comportarsi più o meno davanti al pubblico quindi ci sta i mawari è una di quelle che secondo me funziona un sacco ed è quella più sullo stile tokyo joshi perché oltre ad avere la parte lottata che non è male buona e nella media rispetto insieme a tantissime altre ragazze ha una parte di personaggio che funziona un sacco funziona un sacco secondo me dall'altra parte quella veramente punta è toga toga insieme ma guarda siccome sono le due effettivamente che possono fare quel passettino in più e provare a spingersi un po un po volta sino all'aiuto delle compagnie via di gruppo e quindi danno comunque un po una spinta l'altro sono molto giovani perché sia la casa c'era che una cubo sono abbastanza giovani devono ancora fare un po di gavetta farsi un po le ossa po tutto sommato va bene così c'erano un paio diciamo di esperte tra virgolette come mai l'occhio io ero un aneco tra l'altra parte abbiamo una creatura i barmi che la partita con l'oggetto tante volte all'interno di lariatto la partita molto bene quando aveva debuttato poi dopo l'infortunio se persa probabilmente anche un è meno sicura su alcune su alcune cose e quindi pecca un pochettino anche a livello di lottato alcune mosse cerca di farle ma si vede che non è sicura quindi consiglio meglio non farle perché se fai una mossa che potenzialmente anche semplice ma non sei sicura rischi di fare del mare o a te o all'avversario quindi passettino indietro fai un'altra mossa ci sono centinaia migliaia di possibilità a livello di muse fai quello dove ti sente più a tuo agio piccola piccola con nota così passiamo oltre passa molto perché abbiamo avuto un match veramente ben fatto sia nella parte lottata ma che è nato bene sia se soprattutto anche nella parte pre cioè durante le entrate hanno fatto aiuti a mi fu qui asca questa entrata stranissima accompagnate da due ragazzi hanno ballato hanno fatto di cose che in altra hanno già fatto un paio di volte in tokio joshi ma sentono veramente poco rispetto ai canoni che a questa promotion quindi fa molto strano vederle così è tutta ben studiata ben particolare ben fatta dall'altra parte ai reumi tsunami e nao kakuta che come entrata funziona un sacco perché è fantastica cioè mette un sacco di carica quella mezzunami che entra una balla batte le mani e pubblica contento cioè fine in tokio joshi soprattutto serve quel tipo di entrata per come ormai hanno creato tutto l'ambiente da tokio joshi mi piacerebbe vedere a un certo punto qualcosa di più una divisione paile face che in realtà non esiste in tokio joshi perché di base sono tutte face e mi piacerebbe invece vedere qualcosina magari spinto un po più della parte cattivi anche all'interno di questo mondo non l'hanno mai fatto in in dieci anni non so se lo faranno mai prove c'è sempre quella quell'idea che potrebbero un certo punto spingersi un po tra comunque le quattro hanno fatto abbastanza bene su king e rio mezzunami e nao kakuta di base hanno vinto perché yuki asuka non si sono trovate in un paio di occasioni sono colpite quindi aiutiamo fu così sentita diciamo oltre quindi da qualsi dice ha avuto qualche problemino con asca non so se questa cosa porta poi a un match o uno contro uno se invece la risolvono tranquillamente alla prossima occasione dove possono fare copie insieme faranno copie vanno avanti così funzionano anche i team dove ogni tanto qualcosa non funzionava poi si le mettono insieme cioè non bisogna per forza fa uno split non è una cosa obbligatoria anzi in realtà poi raccontare magari qualcosina in più tenendo due insieme anche se ogni tanto durante match qualcosa non funziona nell'ingranaggio nell'ultimo lariatto abbiamo parlato di storiano e nazi poi che hanno debuttato il 31 maggio 2015 in a press nello show chiaramente il preludio a quello che pensarebbe stato a settembre sono ricordo male la nascita vera e propria di questa di questa realtà in quello sciopo ha debuttato anche no caputa che è una rotatrice completamente diversa dalle altre due non è male su un rig bravina niente di eccezionale però ci sta per i miei caroni non è esattamente quello che vado a cercare all'interno della notte 3 c'è però ci sta c'è una delle che se si passa appunto a metà card come qua va benissimo far suo non toglie spazio a nessuno e mentre chiusa si sta ritagliando un buon minutaggio del spazio che ci sta appunto e quindi va bene ha fatto un percorso completamente diverso dall'altro due le ha affrontato taion ma se non ricordo male all'interno delle sue del 2015 che poi è un altro nome che ha fatto parecchio all'interno dell'ambiente del joshi proprio anche lì non dobbiamo parlare di acqua stiamo parlando di tocchi e joshi quindi se doveva parlare di tocchi e joshi andiamo a parlare del match per valido per il titolo della defy ok c'è stato un paio di situazioni all'interno di questo show dove si sono difesi titoli di promotion esterne alla tocchi e joshi ci sta si stanno legando abbastanza ad alcune ad alcune realtà oltro oceano in questo caso aveva avuto vert vixen doveva difendere il titolo defy la difesa contro unica rinoa che secondo me è una delle ragazze più brave all'interno del roster una di quella che non quelle che anche un po sprecata probabilmente messa lì insieme alle altre potrebbe prendersi tante soddisfazioni al di fuori della tokyo joshi ha fatto dei passi al gigante negli ultimi due anni penso sia migliorato tantissimo sia a livello di personaggio sia a livello di bursette ha fatto diverse cose ha espresso anche un paio di obiettivi particolari e che poi è anche un po per quello che ha fatto il match con rina yamashita ha fatto il match con con soya vreck ha fatto un po di cose strane perché il suo ideale il suo obiettivo è quello di avere una schiena simile a quella di june casai per far vedere che ha anche le delle cicatrici nate dalle battaglie che ha affrontato shopping ha un po strano come obiettivo soprattutto considerando che lei è un idol e quindi c'è lei del comunque pensano anche al fisico a una certa immagine e pensare a una schiena martoriata piena di cicatrici non è esattamente la cosa che viene in mente se uno pensa a un idol sono due cose completamente all'opposto però se è quello che vuole fare alla fine io chi sono per dire no anzi se poi invece vengono bene se lei si trova bene se lei si diverte va benissimo così vert vixen dall'altra parte non mi piace più di tanto la trovo un po lentina su alcune cose un po scoordinata in alcune situazioni però il match è filato liscio è stata una buona difesa chi si è portato a casa vert vixen affrontato una i cani no che comunque uno dei nomi che posso probabilmente nei prossimi anni vedremo abbastanza i piani alti all'interno della tokyo joshi soprattutto se va avanti così a pensare un po in modo diverso la dirigenza dopo tanti anni di diciamo monotonia finalmente hanno capito che bisogna cambiare qualcosina lo stanno cambiando hanno fatto probabilmente nel momento peggiora della loro storia ma va bene lo stesso poi ci arriviamo ne parleremo meglio poi anche nel nel mio evento però va bene così passiamo oltre passiamo oltre perché avevamo avuto anche un match a tre coppie dove sciocco una fagg mai ai permisa o hanno battuto a jackong era q prima coppia seconda coppia pomaro gioco e max di impale è venuto bene questo merce è venuto bene non è un'unica invece che non ti devi aspettare il match della vita non ti devi aspettare il match of the year non ti devi aspettare niente lo guardi ti diverti vedi un hyper misau che fa tutti i suoi pomo fa tutti i suoi momenti stupidi anche con la bici bici che ricordiamo ai cameraman se succede qualcosa fuori dal ring bisogna cercare di inquadrarlo quando succede non appena dopo quando ormai si è già la bici ribaltata se no non si capisce benissimo cioè capisci cosa è successo ma è bello anche vedere mentre sta succedendo piccola parentesi comunque una coppia che funziona da un sacco di tempo quale di ciò con la kg mai ai permisa o funzionano come avversario funzionano come tag team loro vanno benissimo ed è parlato anche giusto che abbiano vinto occhio perché loro insieme a quelli che ho detto prima scusa me avviso e indopota essere la coppia che magari fanno una specie di finale di un torneo non lo so cosa possono fare poi effettivamente potrebbe essere quelle che si affrontano le due copie che si affrontano per il titolo perché sono quelle un po più avanti quelle che comunque avendo vinto anche un match all'interno di un pay per più potrebbero avere quella spinta in più abbiamo anche a gioconda era q coppia stranissima ma che in qualche modo funziona sono due opposti come sono due posti quelli di max impalera e pomara giuco molto bella l'idea di affrontare far affrontare ancora a jack kong e max impalera molto bella l'idea di usare pomara giuco come oggetto da lanciare in avanti indietro per il ring funziona max impalera da quello capito ha firmato un contratto e quindi è apparente fissa in tokyo joshi ed è un personaggio che funziona un sacco come all'interno delle dinamiche di questa di questa promotion quindi sono sono contento da quel punto di vista perché appunto vedendola completamente diversa da quelle che hai all'interno del roster ci sta ci sta perché dai credibilità anche a qualcuno che magari riesce a batterla in qualche modo anche uno contro uno dai credibilità se lei batte qualcuno anche di importante perché comunque lei è più grossa più più prepotente più più aggressiva più tutto anche a livello proprio di immagine fa più paura rispetto alla maggior parte delle ragazze che sono in tokyo che sono carine coccolose quindi funziona un sacco ma un sacco max impala sono contento che sia lì e vediamo cosa le fanno fare nel futuro nel frattempo passiamo a un altro che forse al debutto al debutto in tokyo joshi cioè nila rose che ha battuto mio guata nave in un match che mi aspettavo completamente diverso e quindi sono contento del risultato anche se mi aspettavo esattamente l'opposto perché nella mia testa c'era mio guata nami che ok come l'hanno raccontato lei che ha paura di rai la rossa lei che non sa bene come affrontarla lei che non sa come gestire questa mole di dimensioni enormi rispetto rispetto a lei che comunque bassa e ok che è muscolosa abbastanza minuti a mio guata nave avere davanti un colosso come quello di nila rose giustamente fai vedere che hai paura e non sai bene come gestire le cose ma nella mia testa c'era ok ha paura ma a un certo punto verso fine match riesce a prenderla a farla girare e poi magari fa anche una body slam per chiudere il match riesce a fare la body slam ma non riesce a farla girare e questa cosa manda in crisi un pochettino muata nave che poi da lì inizia ad avere un momento di calo e poi che porta poi alla vittoria di nila rose va benissimo così perché appunto era il debutto mi guata nave al momento non aveva bisogno di una vittoria appena perso comunque da poco perso il titolo international quindi ok si deve ricostruire ma questo potrebbe essere un tassele importante per la sua storia post post titolo quindi va bene così anche se mi aspettavo al contrario quindi ok accetto l'idea che ha avuto la tokyo joshi accetto l'idea magari che gli ha dato anche loro edite non so bene poi in che rapporti sono all elite e tokyo joshi comunque hanno lasciato una porticina aperta perché di fatto è finito così il match con la vittoria di nila rose e va bene c'è comunque una porticina aperta e quindi potrebbe esserci un rematch un seguito qualcosa vediamo poi effettivamente se nila rose farà altri match all'interno della tokyo joshi vediamo come sarà a livello di visto che è sempre un po il problema di quando vedi ragazze americane comunque americani in giappone o quando vedi giapponesi in america il problema è sempre il visto perché la maggior parte da volte ci sono dei problemi quindi devi posticipare alcune cose fatto già solo di utami utami ha raccontato che fino a una settimana prima non si sapeva se poteva effettivamente andare in gcw quindi hanno aspettato quelle della strada ma di chiamando e poi mente il fatto anche di avere questa questa storia un po all'ultimo direi che diciamo non sono mica a posto con con qui in chiesto vado un attimo a farmi una pausa e anche per quelle perché fino all'ultimo non sapevi se lei poteva effettivamente andare in america ed è successo già un sacco di volte successo a willow che doveva venire in tokyo joshi non era riuscita è successo a nick wayne che doveva andare in dbt e non si era riuscito ogni tanto capitano dove ce l'ha fatta nella cosa ha fatto il suo match è andato abbastanza bene pulito tutto tranquillo ha raccontato abbastanza bene e quindi sono contento di fatemi sapere se vi è piaciuto se vi è visto fino a qua questo questo pay per view cosa vi aspettavate qualcosa di diverso se c'è qualcosa che mi sono perso e non ho raccontato lasciate anche un like commentate iscrivetevi il solito che vi diciamo un po in tutti i video passiamo all'altro match titolato per un titolo fuori dalla tokyo joshi cioè quello della iv dove il mio yamashita abbattuto soya vreck allora c'è qualche problemino sia per soya vreck che comunque appunto essendo così alta così grossa fa un po fatica a gestirsi all'interno del ring soprattutto con le ragazze giapponesi che sono molto più basse di lei e quindi da un lato fai molta scena dall'altra poi fai fatica magari a gestire il match mio yamashita ha qualche problemino secondo me ultimamente non mi sta piacendo fino all'anno scorso più o meno era una delle mie preferite una di quelle che funzionava un sacco che lavorava bene che faceva match molto bene poi qualcosa è andato storto sia a livello fisico che a livello di performance non mi sta più convincendo non sta più affondando i colpi non sta più facendo quella che ha la mio yamashita di un tempo quindi ok ha difeso il titolo contro soya vreck ok ha mantenuto il titolo iv erano a difendere di nuovo probabilmente in inghilterra sta lottando di più in inghilterra che in giappone praticamente questa cosa magari non l'aiuta ad avere il ritmo che aveva prima comunque fai meno match tellini in modo diverso perché sei dall'altra parte del mondo quindi tellini in modo diverso in inghilterra rispetto al giappone o in america quando fa delle apparizioni in america non lo so deve sistemare qualcosina o cambiare completamente quindi vediamo poi come comanda magari a voi sta piacendo un sacco magari a voi piace ancora un sacco fatemi sapere anche questa cosa magari sono io che mi aspetto delle cose che in realtà non dove aspettarmi e quindi le vedo male per quello però non mi sta convincendo a mio yamashita detto questo che mi è piaciuto molto non stavo dicendo roba che non esiste in italiano c'è caldo sto sudando un sacco e quindi dico straparlo però va bene lo stesso possiamo verso la fine quindi va bene così le neobi shikigun sakisama e mesha michelle hanno battuto yukirai e wakana wehara invece è venuto abbastanza bene abbiamo avuto il ritorno probabilmente per l'ultima volta delle neobi shikigun perché sakisama è vero sono due persone diverse sakisama e sakhiakai ma mi hanno detto che molto probabilmente visto che si ritira sakhiakai probabilmente si ritira anche sakisama e quindi non vediamo più le neobi shikigun almeno con sakisama al comando quindi è stato bello rivedere in per un momento questa questa situazione questa coppia che funziona sempre un sacco mi ha fatto molto ridere anche baglianacchia e chris brux al commento che uno è molto amico di mei suruga l'altra è molto amico ma in realtà in chimiche molto nemico di mei suruga quindi nel commento hanno detto anche un po di cose contro e a favore di messa mi scelta è molto simile a mei suruga anche questa cosa non so se veniva se ci venivano accorti ma è molto simile sembrano quasi la stessa persona dall'altra parte yukirai e wakana ueara hanno funzionato l'hanno messo un po troppo avanti secondo me all'interno della card non è male è un nome è un nome che funziona un nome che spesso in tv da quello che ho capito quindi attirava sicuramente lei messi in coppia con yukirai che comunque un idol che ormai è più una ex idol però di fatta ancora un idol e quindi hai fatto mente di una coppia neobi shiki gun contro la coppia di idol il match ha funzionato è affilato liscio ma fatto strano vedere sa chi sa ma che iniziava il match cosa che non ha mai fatto da quando ho guardato io ha sempre iniziato me san michel molto brava wakana uaara nei confronti con me dove ha provato anche a rubargli il vassoio ma poi non ce l'ha fatta lei è molto più molto l'ingegno in questi in questi casi quindi è riuscito ad avere la meglio anche se il vassoio ha finito un paio di volte in testa sa chi sa ma ma va bene lo stesso è l'hanno gestito molto bene secondo me è filato liscio era il match che mi aspettavo e l'hanno raccontato bene era tutto c'è il match deve essere una storia più di parti di contorno rispetto poi alla parte effettivamente di mosse e l'hanno raccontato bene è andato bene e vi consiglio di recuperarlo anche proprio per a livello storico probabilmente sarà uno se non l'ultimo match delle neobi shiki gun quindi recuperatelo anche per quella per quel motivo passando oltre abbiamo il match per l'international princess match tra i katatsumi e yuki aino che ha battuto un paio di settimane fa come aveva detto prima risuendo per la number one contender match che mi è piaciuto un sacco e non me l'aspettavo non me l'aspettavo yuki aino mi sta piacendo molto in singolo mi piaceva un sacco in coppia poi l'hanno messo subito in una file attitolata contro ciò con la cajima e non mi era piaciuto più di tanto l'avrata con dei problemi un po problematica su alcune cose probabilmente l'avranno messa troppo in alto troppo in fretta con l'avversaria giusta che in questo caso è stata rica tatsumi e si sono trovato un sacco il match è venuto bene lei ha cambiato attire ha cambiato attitudine era molto più aggressiva ha provato di tutto per provare a vincere il titolo a un certo punto mi ha fatto anche pensare che forse riesce anche a portarsi a casa il titolo international e potrebbe essere anche un'idea carina e interessante perché è una lottatrice che non ti aspetti con quel titolo ma che potrebbe far bene però sono sono contento sono contento perché non sapevo cosa aspettarmi ricca tatsumi sapete non è tra le mie preferite è una di quelle che funziona nello pseudo comedy secondo me ma che si concentra troppo su poche mosse e quindi pecca un pochettino a livello di continuità perché magari facendo sempre la stessa mossa e finisce sempre più o meno lì e la mossa è apparentemente la culata in faccia però beh è venuto bene ha detto anche una cosa durante un'intervista un paio di giorni prima di questo match e non c'entra niente con il con questo match effettivamente ma c'entra con una cosa che ha detto lei è molto legata a antonio onde lo vede un po come un suo maestro vorrebbe effettivamente fare coppia con lui vorrebbe affrontare i brown brothers che abbiamo visto in baka gaijin sono quelli che normalmente vengono tipo della freedom o dal big japan comunque fanno del del dei death match o gli piacerebbe affrontare andresa e quindi ho già detto dovete fare assolutamente un match in baka gaijin tra lei e antonio onda conto andresa e qualcun altro qualcuno che trovate tranquillamente potrebbe essere anche una super sassadango machine sta venendo super sassadango machine che affronterà asia kong ad agosto sempre in tokyo joshi stranissimo sarà stranissimo vedere super sassadango machine in tokyo joshi quindi ho fatto un sacco di collegamenti di cose che non c'entravano col match recuperato anche questo match perché è venuto veramente bene e fatemi sapere se vi interessa vedere andresa the giant panda in baka gaijin se conoscete andresa se non lo conoscete cercatelo perché è un personaggione che è fondamentale per tutti quelli che vogliono seguire un po il mondo della tokyo joshi della deity dovete assolutamente sapere chi è cosa ha fatto perché lo ha fatto e soprattutto se conoscete un po chris brooks collegate anche poi magari qualcosa intorno ad andresa intorno a poco tan il fatto delle mascotte ci abbiamo fatto anche un lariatto al giorno che ne parla delle sue della sua faida con tutte le mascotte che ci sono all'interno di questo panorama che è il poloresio mascotte che sono infinite panorama che è infinito c'è un sacco di roba da dire e quindi arriviamo al main event che era il match più atteso lo hanno costruito benissimo è un match che ha una storia parecchio lunga arriva dal 2017 e lo hanno raccontato bene in un in un video che hanno caricato su youtube dove racconta tutta la storia tra mezzo chi è ma chito mezzo chi che ha battuto ma chito nel 2017 ma chiede che aveva debuttato da pochi mesi che era già lì da qualche anno quindi giustamente era quella più esperta e abbattuto la pseudo uchi ma ha iniziato a collaborare con lei a fare un fare coppia e candola ito rispettarmi che poi più avanti si è trasformata nell'annino ito rispettarmi mettendo cross box e mi tenendo minolo suzuki ma quello è un altro discorso partiamo da quella effettivamente vera e propria che sono 20 è un tag team semplice ma ma chito e mi zucchi amico che era piaciuta nel 2017 ma chito l'aveva vista per la carica prepotente e canetta beh ok nel mondo delle idol non si è riuscita da ad aver successo il pubblico non era dalla tua parte il wrestling potrebbe essere effettivamente il tuo mondo e questi anni l'hanno dimostrato l'ultimo match questo questo l'ho dimostrato perché il pubblico era tutto dalla parte di ma chito ma chito ha una presa col pubblico che allucinante può avere delle pecche a livello di di lottato si in realtà le maschera benissimo e funziona un sacco anche nel lottato però a livello di pubblico ha un sacco di presa sia in giappone che negli stati uniti funziona è un personaggio che funziona ma chito quindi mi zucchi ci aveva visto bene nel 2017 poi quando hanno fatto coppia a un certo punto la coppia è scoppiata e loro sono affrontate in un paio di occasioni l'ultima e l'unica in cui ha vinto ma chito era quella per il torneo una semifinale del torneo tutte le altre volte ha sempre vinto mizuki e quindi c'era comunque questa possibilità di vittoria da parte di ma chito perché appunto l'ultima volta ho vinto perché non posso farci anche questa volta e io mi aspettavo effettivamente la vittoria di ma chito perché appunto l'ultima volta e vinto puoi farci anche sto giro hai tutte le canti in regola per farcela il match è venuto una bomba hanno fatto un lavorone sia su ring che fuori da ring con delle parti molto belle molto interessanti si conoscono si sono trovate mizuki è comunque ora che appunto lotta da dieci anni di quindi sa comunque come comportarsi poi all'interno del quadrato è una buona campionessa ma aspettavo il cambio per chiamati ma chito potrebbe essere altrettanto una buona campionessa ha lottato bene mi ha dato un'idea però dato un'idea con il promo finale ne ha messo una pulce nell'orecchio e nel proprio finalmente detto che non sono riuscito a batterti soprattutto in tutti i modi ci conosciamo da una vita sono qua anche grazie a te perché mai accompagnato per hai creduto in me mi ha rispettato e adesso io ti rispetto ti rispetto come campionessa ti rispetto come lottatrice ti rispetto come amica ma chito proprio ad agosto ha delle date in america e quindi mi ha fatto venire l'idea che non è andato il titolo perché poi lei comunque per un mesetto deve stare in america quindi per un mese non hai il titolo lì in giappone hai già yukasakazaki che va in un elite comunque ma in america si sposta dal giappone è il mio yomashita che in inghilterra l'america quasi fissa in giappone non c'è quasi mai ti mancano dei 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 pezzi importanti ti mancano dei pezzi importanti ma chitos come una dell'altra di quelle che probabilmente è stata anche lei da un certo punto di vista non voleva il titolo perché non so quanto effettivamente sta dentro alle dinamiche della tokyo joshi lei guadagna prende di più anche a livello di immagine adottare fuori dalla tokyo joshi una specie di setta è molto chiusa fa molta fatica a mandare fuori e a prendere delle lottrici ha qualche collaborazione appunto con la iv è ok se non fa molta fatica e quindi ma chi ti ha un nome che deve girare deve girare perché può prendersi un sacco di pubblico può fare un sacco di cose fuori che siano in giappone che siano negli stati uniti che sia in inghilterra che sia in norvegia che sia in uganda dove volete voi la tokyo joshi troppo stretta per makito e quindi non è andato il titolo per quello mizu che ormai la sua carriera la fatta in tokyo joshi e quindi va bene così l'idea che stanno costruendo delle buone rucchi mi piace perché effettivamente mancano dei pezzi nella parte alta della card il fatto di yuki aino che è ok ha perso con ricchiato azumi ma ha fatto vedere di poter fare parecchio bene potrebbe essere un altro di quei nomi che a un certo punto magari o ritorna per l'international o arriva per il princess of princess mancano dei nomi mancano dei nomi quindi devono puntare molto su alcune cose alcuni nomi che per me sono mio watanabe susume e i carinoa sono i tre più pronti per andare nella parte alta della card per comunque mizu chi e reka tazumi sono ormai ok possono fare ancora qualche anno perché mizu chi di base ci ha levato da poco nella parte il singolo dopo che yuka ha detto del mollo la tokyo joshi e ci ha fatto un sacco di tempo ha vinto un sacco di tornei ci ha fatto in tutti i modi a vincere quel titolo quindi è giusto che stia ancora un po lì e probabilmente la vedremo per qualche anno ancora nella parte alta della card poi bisogna costruire qualcosa sotto ci ha messo troppo la tokyo joshi a capirlo c'è allora nell'estate nel 2012 e fino al 2022 non hanno capito che effettivamente c'era bisogno di creare qualcun altro oltre a mia amata sciocco la sagina e yukasa katsaki e adesso che sono arrivati nel momento dove bisogna avere qualcuno di nuovo oltre loro tre sono un po nella merda stanno lavorando bene per costruire ma devono correre un po e hanno avuto tutto il tempo per non per non correre sono arrivate lunghe questo show è venuto bene è venuto bene stati un paio di momenti che non mi aspettavo un paio di match parecchio interessanti alcune parte molto comedi che è giustissimo poi per il mondo che è quello della tokyo joshi le difesa situate sono tutte molto molto belle quelle di casa d'occhio joshi quelle esterne un po meno almeno dal mio punto di vista devo che stanno facendo un buon lavoro vedremo poi quanto ci metteranno effettivamente a fare quel passo che serve e vediamo cosa faranno miu yamashita nel futuro abbastanza breve e makito sono i due nomi che secondo me bisogna tenere d'occhio perché potrebbero essere dopo yukasa katsaki due nomi che si staccano ancora di più rispetto a come sono già staccate dalla tokyo joshi detto questo io vi ringrazio per aver ascoltato questi 35 minuti di un michele qualsiasi che parlava di tokyo joshi spero vi sia piaciuta questa review spero vi sia piaciuto l'evento fatemi sapere qual è stato il match che vi ha colpito di più qual è stata la dinamica che vi ha colpito se vi è piaciuto lo show cosa cosa vi è piaciuto cosa non vi è piaciuto commentate sono vostra disposizione poi commenti o cercherò di leggerli farmi un po un'idea di quello che del vostro pensiero magari ne parliamo insieme e niente direi che è il momento di chiudere l'episodio 151 di vari atto io sono michele una delle voci di vari atto e della tv del ring vi ricordo di quindi di commentare iscrivervi e mettere un like e noi ci vediamo ad un prossimo video grazie ancora e alla prossima